Salve a tutti ragazzi dal vostro Mazingazzetto e bentornati a una nuova puntata su Hands of Fate, la mano del destino. Allora, eravamo arrivati... non mi ricordo dove, dove eravamo arrivati? Ah, Jack of Skies, il Jack di scaglie, ok. Che sblocca, beh, ok, le sfide sono tre, Good Fortune e te. Eh, Deadman Gorge mi sembra siano tipo delle caverne. Rule change, in combat project travel, out of speed... Ah, durante il combattimento, diciamo, i coltelli, cioè i colpi a distanza dei nemici, viaggiano più lentamente della metà, ma fanno il doppio del danno. E il, diciamo, il cooldown per usare i poteri dell'arma o degli artefatti sono raddoppiati. Va bene. Devo costruire il deck. Ah no, non devo. La Viking Blade, ragazzi, è un'arma spaziale. Andiamo così, eh. Via e una Viking Blade. Poi, qui cosa c'è di bello ancora? Madonna, madonna, quanta roba che abbiamo. Quanta roba. È tutta roba nuova, perché non... Non troviamo un po' una minchia. Allora, Fleet Cuffs sono degli ottimi guanti, quindi ce li mettiamo e togliamo i Mage Gloves. Poi, Mercenary Contract. Cosa fa? No, volevo vedere cosa faceva. Non mi ricordo come si fa. Vabbè. Perché passa sempre un sacco di tempo da quando ci gioco. Do you remember? Ok, prossimo colpo, droppa oro. Va bene, ho capito. Quindi togliamo la cosa che sappiamo cosa fa. E mettiamoci... Ghiaccio piumato? Dai. Così a caso. Togliamo l'healer ring e mettiamo il ring of justice. Perfetto. Mentre degli incontri, togliamo quelli già fatti. Già quelli dove abbiamo già ottenuto il token. Tipo questo. 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 E mettiamo questo, questo. Questo, questo. Ancora tre ce ne mancano. Ok. C'è qualcos'altro con un token qui in mezzo? No. Ok. Lo so, lo so. Gli ho visti. Gli ho visti questi. Questi due. Però questo lo posso mettere ma so già cosa fa. E anche Angry Mob. Il problema è che è un casino proprio da avere. Ah, l'altare. Non l'avevo notato. Ok. In pratica cercherete avere 100 monete d'oro. Cosa che la vedo difficile. Safe deck, safe game game. Yes. C'è questo. Start. Perfetto. Mana Drain e Heavy Herald. Ah, ok. Sono quella... Le due cose che abbiamo letto prima. Good fortune, good fortune, good fortune. Che mi sembra una cosa malvagia. Traveling Mage, Traveling Tinker, Shot, Traveling Year, Cup. Madonna. Quanta roba. Ok. Che tecnicamente è una cosa buona, ma non tanto perché sono carte che non sono ottime. Quindi probabilmente ci diminiscono la chance trovare carte buone. Ok. Speriamo di droppare un po' di equip perché è un po' di partite che stiamo andando praticamente contro i boss e quelle che faccio il vento base. Vorrei prendere un po' di equip giusto per poter prendere cose nuove. Ok. Ok. Ha detto che aveva, diciamo, risparmiato di usare le scaglie, quindi di usare le Lizard contro di noi fino adesso, ma adesso ha deciso che non si risparmerà più nel mandarci contro le creature. Ok. Grazie. 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 Ciò vuol dire che ci teme. E mi ricordo come si torna indietro. Ottimo. Via. River. Allora. River. Che senza avere... Che con l'armatura media, come al solito, non possiamo vincere. Quindi. A prescindere che io prenda successo fallimento, la cosa che mi fa un po' incazzare anche... Vabbè, io ho visto successo lì. E no, vabbè. Perdo uno di cibo. Vabbè, non è andata così male. Che comunque con l'armatura media, anche se facevo successo, come abbiamo visto, non mi dà il token. E che è un po' una cagata perché io parto con l'armatura media e non posso cambiarla. Twisted Canyon. Ah, ok. You see a weapon. Vedi un'arma che scintilla la luce del sole. Vicino a uno scheletro in fondo al canyon. Le mura del canyon hanno pochi posti, diciamo, dove ti puoi arrampicare. La lasciamo stare. Perché dove poteva esserci scritto che ci c'erano invece molti posti, era facile da scalare. In quel caso ci avrei provato, ma potevo morire. Stranger in the Shadow. Oh, ok, ok, ok. Un token. Questa non la conosco ancora. In una... Ok. In una buia... Notte senza luna, in una strada oscura e solitaria, incontro uno straniero incappucciato. Salute, amico. Sono in cerca di qualche sostentamento. Daresti un po' di vigore in cambio di soldi? Sì, più caldo perché così prenderebbe il token. Lo straniero si muove con una velocità innaturale e ci aggrappa e ci morde alla gola. Ah, ok. Apposto, vampiri. Thank you, he says. E ci dà un po' di soldi. Perfetto. Non sono ancora sazio. Voglio rionare ancora soldi? Vai, vai. Lo straniero è la stessa cosa di prima. Altri dieci in meno. Thank you. Mortale. Sembri, diciamo, inusualmente volenteroso di dare i tuoi soldi per guadagno. Lo straniero se ne va dicendoti il segreto di un'asta segreta di sangue che potresti trovare. E ti dà il token, che probabilmente sarà la carta dell'asta del sangue. Abbiamo 20 di oro, direi che siamo andati bene. Sì, ok. Abbiamo perso un po' di soldi. Ma sinceramente non me ne frega la minchia. Perché comunque ripristiniamo la... Abbiamo perso un po' di vita, ma ripristino. Dox ho già 90. Angry Mob. E dovrete risolvere i soldi stavolta. Quindi potrei riuscire a prendere il token. Forse. Ok. La solita roba. Ah, no. Il cibo. Give them nothing. Try to avoid. No, non gli do niente. Prova a scappare. Non gli do niente. Dici che non hai cibo e provi a spiegargli che non hanno motivo da freccarti. Ecco. Eh, no. Ah, cazzo. Sicuramente. Sicuramente. Stavolta devo ammettere che l'ho visto. Non so perché, ma l'ho visto. Li fai... Li convinci che sei solo un vagabondo. Anche tu un affamato vagabondo. E ti fanno passare. E ti riprendi il token, ma non me ne frega niente. Non posso... Non potevo dargli il cibo. Ok. Andiamo di qua. Trova di Mage. Ciò vuol dire... Ciò vuol dire... Cosine. Oggetti. Hmm. Hmm. Bene, 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 bene. Gioco. Non mi crashare proprio adesso. No. Ok. Traveling Mage. Noi sponiamo dalla carta. Hop. Però, una cosa che dovrebbero fare, secondo me, su End of Fate. L'unica cosa che mi sento, diciamo, di dire che è un po' bruttina. Potrebbero far personalizzare l'Avatar, perché così non è che sia al massimo, eh. Oddio. Non ho soldi per niente. No. Ho soldi per gli Egg Drop. E per l'Ernest Hunters. Lizardman. Mia. Lo so. Avrei dovuto probabilmente comprare del cibo, perché lo sto finendo. Lo so. Però, con quell'elmo che ho appena comprato, le Lucertole prendono il doppio dei danni dai miei attacchi. E ciò vuol dire che gli faccio molto male. E soprattutto quando devo affrontare un principe. Dead Man's Gorge. Ok. Ma me lo ricordo, c'è un'ambuscata, come stavo dicendo. Cinque banditi, ok. Vediamo se mi ricordo come si combatte, ragazzi. Ole. Ho solo uno di cibo, quindi spero che mi diano un po' di loot. Se no, scenderemo piano piano. Spero di non morire di fame. Se morio di fame me la sono cercata, perché non ho comprato cibo. Ho provato a potenziarmi un po'. Vediamo com'è. Ok, nel metto cornuto. Mi raddoppia danni contro le Lucertole, però. Che la cosa mi piace. Ok. È un po' che lo dico sul canale, ma devo, come si dice, devo comprare un diavolo di controller compatibile per il computer. Perché giocare a End of Faith, ole, col mouse, giocare anche a Borderlands con mouse e tastiera è un po' un casino. Perché sono giochi, diciamo, stati semplici, ci sto. Finché sono giochi frenetici di Borderlands, appunto. È più per quello che lo prenderei. No. Perché comunque con questo un po' me la cab... bene o male me la cabicchio. Certo, il controller sarebbe tanta roba, eh. Ci ammetto. Tunk. Siamo riusciti a non prendere ancora un danno. E sono tutti morti. Uhuuu. Loot, 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 loot. Una carta. Cibo. Cinque d'oro. Non me ne faccio niente. Non ci posso neanche comprare del cibo. Ho finito il cibo. Prendi le scale. Sì. Mi serve cibo. Cibo, cibo. Meno dieci. Goblin. Ok. Mi ha detto che sto cominciando a... A sentire la fame. Ok. Ma i goblin... Goblin, per quanto possono essere rompicoglioni, possono essere una salvezza per me. Perché i goblin ti rubano il cibo e oro. E anche quando non ne hai, uccidendoli, te ne danno. Quindi potrei guadagnare un po' di cibo. Forse. Forse. Se non... Non mi devi fregare niente di prendere danno adesso, perché se no morirei. Quindi... Giù duro. Tum. Ok. Ok. Ok, io rocola. Tum, tum, tum. Colpiscilo. Anche l'oro! Diciamo che non mi schifa, perché arrivando da un... Traveling qualcosa... Posso riprendermi... Posso comprare cibo. Però... Ah, no. Già due di cibo li ho presi. Avete visto? Sono a due di cibo, più che altro. Non so quando li ho presi, ma sono a due. Ok. Questa ha un ascio sulle spalle, che dovrebbe essere la mia, immagino. Tre di cibo. Ottimo. No, no, no. No! Cacchio, mi è scappato. L'altro dov'è? L'altro sta scappando, immagino. L'altro non scappa. Facciamo che l'altro non scappa? Bene. Quattro di cibo, ragazzi. Sono stati la nostra salvezza. Avevamo preso un po' di danno, ma... Sono dovuto stare un po' meno attento. Ecco, voglio controllare una cosa. Mi hanno rubato l'ascia? Sì! Mi hanno rubato l'ascia. Bastardo. Quello che è scappato mi ha rubato l'ascia. Adesso ho la Rusty X. Prima avevo l'ascia normale. Vabbè, farò un po' meno danni. Ma non me ne frega niente. Eccoli. Appunto. Ratman hunting. Quattro e sei. Col danno diminuito. Bene. Prenderò tante botte. Spero che almeno sia un'arena congeniale. Sì, hai un'arena congeniale. Non ci sono trappole. Che sì. Possono essere anche un vantaggio per me, ma io non le so sfruttare bene le trappole. Ci metto. Scudo. Madonna quanti sono. La Rusty X. E speriamo di fare bene. Ci stronzi. Oh! Counter, counter. Counter, 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 counter. Ah, ditto. I Ratman a volte hanno stati che non sono counteranti. Quelli che vedete quando vi appare, diciamo, il segnetto rosso sulla testa. Vuol dire che non li potete counterare. Ho anche capito come si spe... Come, come, diciamo, come è possibile che si spezzi... Ecco, quella in maniera counterabile. Il vostro indicatore delle combo non si spezza se si mette di colpire. Si spezza se il colpo che voi state, diciamo, gli infereni che state dando va a vuoto. Se il colpo va a vuoto, allora la combo si interrotta. Perfetto. Massacrati. Penso di aver perso tipo 5 di vita. Lo so, ho perso poco comunque. Quindi mi va molto bene. Per aver affrontato 10 di roba. Ok, cerchi nei corpi ma non trovi nulla. Ecco, se solo ci fosse qualcosa che potresti fare per questa piaga degli uomini ratto, se ci fosse qualcuno che potresti pagare per prendersene cura. Infatti c'è una carta che ti toglie, perché adesso ce l'ho bloccata le carte del ratman hunting. Se pago 100 a quella carta... Embertown Hero. Ok, vedi un avventuriero ferito. Chiede gli suoi problemi. Sono stato inseguito da un po' di ladri che hanno attaccato Embertown. Gli ho uccisi, ma mi hanno fatto male. Se hai qualche ono, qualche po' di onore, trovali e fargliela pagare. Embertown Hero. Dove sono? Laggiù. Cazzo. Vabbè. Facciamolo. Embertown Hero. No, no, no. Uccidili. Queen of Dust. Solo Queen of Dust? Cioè, oddio. Sono solo Queen of Dust. Queen of Dust vuol dire lei, la sua balestra e due banditi, mi pare. Comunque mi sono... Cioè, mi hanno offerto di dividere le spoglie, ma mi sono... No, un cazzo. Sono lei, la balestra e tre banditi. Giusto. Allora. Giri, spostati. Ah, non era imparabile. Vabbè, non so bene. Spostati imparabile! No, no, non stai spostato. Sì, vieni. Ma, vabbè, mi ha preso in una combo veramente infinita. Sì, vabbè, vabbè. E... Se a trovare la Queen of Dust in questo livello, con questa maledizione, è figa. Ok, questo attacco prenesia che... ...discotta. Ok. E' figa, cazzo, perché... Proprio nel quadro in cui... Ok. Adesso va tutto bene. Bene. No, spostati! Spostati! Ok. Nel quadro in cui le frecce fanno il doppio di danno... ...stai un po' sfigato. ...provarla qui o spazzo, eh. Ok. Adesso le frecce. Spostati! Ok, entro prenesia. Io ti do questi. Spostati. 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 Countera. Countera. E... E' fischi. Aia! E' quanto cazzo è tosta! Ho capito che è una raffia ex, però, santo Dio! Oh! Mamma mia! E ho zero di cibo! Ti prego, ti prego, lutta bene! Lutta bene che siamo morti! Tre carte guadagno, ce ne sarà una di cibo? E che faccia l'infero? Un shield per la marathon, non per la sprint. Stun. Gli shield che hanno il tratto dello stordimento possono stordire i nemici con il tasto destro del mouse. Ok. Dammelo. Ok. 10 d'oro. Non me ne frega niente. 5 d'oro non me ne frega niente. Probabilmente morirò, ragazzi. Probabilmente. Probabilmente. Se... Se il prossimo... Se la prossima carta non è una carta guadagno... Uh, cazzo. Warning, science. Spett. Tre morite come un idiota. Even now. Rivicina una valle... Cioè, arrivi a una valle vicina. E ci sono un sacco di avventure di morti sotto delle pietre davanti a te. Non provarci a raggiungere il tesoro straniero, dice un uomo anziano. Questi stolti ci hanno provato e guarda cosa gli è successo. Io ci provo. Tanto! Sì, lo sarà sicuramente un successo e mille fallimenti critici. Diciamo, parti per la vallata. Senti un distintivo, diciamo, urlo degli giganti dalla collina sopra di te. E cominci a tirarti rocce. Opposto. Dipende dove va quella carta. Ok, andate in un punto che potrebbe essere questa. Sì, l'ho vista. Madonna. Hai capito? Mi sono fatto comunque male. E vabbè. Vabbè, grazie. Ah, ok. Gli hai divertiti abbastanza. Ancora? Ah, è questa. Oh, appunto. Va bene. Ok, un'altra roccia ti manca. C'è una piccola caffè. E che cazzo? E quanti successi devi fare? Potrebbe essere questa o questa. No. Eh, me la potevo sentire che era quella. Sei carte. Sì, vabbè, ciao. Sono morto. Ouch. Sono morto. Sì, vabbè, ma... Sei carte, eh. Sei carte. Ah. Tre carte guadagno di oro, però. Quindi sono morto al prossimo... Ok, sono morto, ragazzi. Però ho il gettone. Vabbè. Vabbè. Ah, grazie. Sono morto. A posto. Sono morto di fame. Va bene. Sarvescio. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Ah, lo so. Vabbè, lì, ma... Mi hai ucciso. Con una carta, con... Cioè, vabbè. Non so, l'avete visto anche voi, ragazzi. Cosa potevo fare? Sei carte... Sei carte danno. Io... Non dico altro, perché penso che sia autoesplicativa la cosa. Vabbè. È tutto per questa parità, ragazzi. È andata male, ma non tanto per colpa mia. Anche se avessi comprato del cibo, qua sarei morto lo stesso. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao.